Farmacie, parafarmacie ed erboristerie sono state prese d'assalto in questi giorni a causa della psicosi da coronavirus. I prodotti più acquistati sono state le mascherine igieniche e i gel disinfettanti per le mani. Per questi ultimi in alcuni casi c'è chi ha dovuto addirittura autoprodurli per soddisfare l'enorme richiesta. Per adesso la stiamo producendo noi, facendo fatica a trovare anche la materia prima, però per ora ce la stiamo facendo. Ieri ho prodotto circa 15 litri di ammuchina, oggi siamo lì. Per quanto riguarda invece le mascherine c'è una richiesta enorme? Le mascherine pure, non abbiamo purtroppo le FFP2 e FFP3, solo le FFP1 che sono quelle chirurgiche senza filtro, però sono le uniche per ora che si possono trovare in commercio. E quelle altre sono introvabili? Le altre sono introvabili, abbiamo girato ovunque, sono due o tre settimane che le cerchiamo, ma niente. Le mascherine veramente sono introvabili, purtroppo è un fatto incredibile, ma è proprio questo. Forse è un problema della filiera, della distribuzione, che in Ticilia come assoluto siamo sempre penalizzati. Gli igienizzanti mi sono attrezzato e entro metà marzo mi arriveranno una buona quantità. Io questo per correttezza e per professionalità. La Vedefarm ha fatto una nota a tutti i titolari della provincia di Messina, non devi dare speculazioni eccessive, bisogna evidenziare bene i prezzi di questi prodotti igienizzanti. Grazie. 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 Grazie.